L'infinito non si può recitare perché è troppo difficile, bisogna spiegarlo, ma per spiegare l'infinito bisogna capire che cos'è la siepe, la siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guarda esclude, che non se l'è inventata Leopardi, c'era, e un giorno mi trovo nel colle dell'infinito, sto passeggiando così, e cerco la siepe, ma dove sarà stata? Perché sapete che c'è un muretto alto così dove c'è scritto Mario, Ama, Genoveffa, ci siamo fatti riconoscere anche al colle dell'infinito, pazienza. Allora un ragazzo dice maestro, maestro, ha bisogno di qualcosa, io sono qui per spiegare, sì vorrei sapere dov'è la siepe dell'infinito, quella siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, non c'è più, come non c'è più? L'hanno tagliata, come l'hanno tagliata? Hanno tagliato la siepe dell'infinito, la siepe più importante nella storia delle siepi, l'hanno tagliata, perché? Perché così si vede il panorama, ah così si vede quello che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, quindi è morto pure quello perché non è escluso, è rimasto un pezzetto mi dice, dove? Venga maestro e mi porta con aria di complicità in un angolo, nell'angolo estremo, facciamo finta che lì c'è il paesaggio, i monti azzurri che di qua scopre che avarcare un giorno, mi pensavo a qua, colpo di scena la siepe alta 6-7 metri, 6-7 metri, ma allora era altissima, perché? Perché era altissima in quanto il conte Monaldo aveva dato, concesso il palazzotto a un ordine monastico che voleva mettere un muro e Monaldo disse no, abbiate pazienza, il muro no e vennero all'idea di fare questa siepe che da tanta parte il guardo escludeva e solo uno poteva passeggiare in quel prato dopo che le monache si erano ritirate per il vespero ed era il conte Giacomo il quale si sedeva e io mi sono inventato che si sedeva esattamente davanti alla siepe, così, pensando e voi che conoscete bene soprattutto tu, Leopardi dove spiritoso com'era? Dove si siede Leopardi? Così, tanto che sempre caro gli fu quest'ermocolle e soprattutto questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, che esclude la vista, voi sapete che siete giovani, avete studiato, lo sguardo esclude, non la vista esclude, impedisce che cos'è lo sguardo? Quello che mi guarda da dentro quello che io vedo, l'ultimo orizzonte, adesso non abbiamo troppo tempo ma l'ultimo orizzonte, è inutile che vi dico siete svegli, voi lo sapete, che cos'è l'ultimo orizzonte? che cosa succede? Che a un certo momento, un miracolo, un soffio, un rumore, non c'erano macchine, non c'era niente, si sente due foglioline che col vento vanno meno e in quel suono, mentre lui si è immaginato le morte, stagioni, la storia, l'umanità, le cose così cieco, accecato dalla siepe, si è immaginato tutto, questo rumore della realtà, del reale, fa sì che venga investito dall'eterno, investito dalle morte, stagioni e dalla epoca presente, dal nostro presente, che ci sembra così tragico, importante, è il suon di lei, e questo suono cos'è? Due foglioline, rispetto alla storia, no? così, fra quest'immensità della memoria, delle memorie, degli sguardi, della storia e dell'oggi, quest'immensità dell'ora, s'annega il pensier mio, non può più nuotare, è travolto, però, il naufragarme è dolce in questo mare, il naufragarme è dolce in questo mare.